Sesta corsa premio Proud Medal doppio chilometro ad inseguimento con tre cavalli di categoria F allo start e cinque avversari di categoria D e E al secondo nastro ritirato il numero due Robby restano in tre allo start appunto Spirit e Dasolo, Davide Angeletti, Ossigeno Biggi, Vincenzo D'Alessandro Junior e Wat Love in salchi al quale sale Davide Di Stefano e sostituisce Lucio Becchetti al secondo nastro Sugar Bread, Manuele Matteini, Oriuntili Dario Battistini, Atta Diabolo, Alessandro Cocciadoro, Taylor Di Cuma, Mattia Orlando, Urbano Ferma, Antonio Greppi Valido il primo segnale che vede Ossigeno Biggi scavalcare Spirit d'Asolo mentre si deve adeguare in terza posizione Wat Love tra gli inseguitori il più veloce anzi la più veloce Taylor Di Cuma che ha all'esterno Attack Diablo poi Oriuntilli e Sugar Bread mentre è stato incerto nella giravolta urbano ferme non tarda a progredire il penalizzato Attack Diablo che risale rapidamente tutto il gruppo punta su Ossigeno Biggi lo raggiunge da poco 400 metri di gara e sfila di forza al comando Attack Diablo leader nei confronti di Ossigeno Biggi terza posizione per Spirit d'Asolo a precedere Wat Love poi ancora Taylor Di Cuma, Oriuntilli, Sugar Bread, Urbano ferme che ha ripreso contatto muove dalla sesta posizione Oriuntilli mentre Attack Diablo sta completando il mezzo assomiglio iniziale in 1 e 2 scarso ma ricordiamo che veniva da 20 metri più indietro comunque andatura nel complesso non eccessiva insiste Oriuntilli che giunge al lato di Ossigeno Biggi cerca di andare a diretto contatto del leader la scia di Oriuntilli viene presa da Sugar Bread e da Umbano ferme siamo ormai all'apice della penultima curva con Attack Diablo in vantaggio su Ossigeno Biggi e Oriuntilli quindi Spirit d'Asolo e Sugar Bread Wat Love e Urbano ferme e in coda si ritrova Taylor Di Cuma situazione tattica che non cambia con Attack Diablo che difende agevolmente la posizione dopo 1.400 metri in 1.46 e 7 bene nella sua scia Ossigeno Biggi con un largo Oriuntilli quindi la pariglia composta Spirit d'Asolo e Sugar Bread con Attack Diablo che accelera e completa il miglio in due minuti appena abbonati l'errore improvviso di Oriuntilli all'apice dell'ultima curva lascia Ossigeno Biggi chiaramente in seconda posizione davanti a Spirit d'Asolo Attack Diablo che sta affrontando in vantaggio la retta del rivo in seguito da Ossigeno Biggi che sposta al suo esterno poi c'è Sugar Bread che sopra Spirit d'Asolo poi Urbano ferme sbaglia anche Wat Love Attack Diablo in vantaggio Ossigeno Biggi che ci prova ma Attack Diablo reagisce riparte e conclude con chiaro margine sull'avversario vittoria di Attack Diablo avanti a Ossigeno Biggi e Sugar Bread sul mio cronometro 2.29.2 per gli ultimi 2.000 metri ma Attack Diablo veniva da meno 20 quindi media di 1.146 che per Attack Diablo sarà naturalmente assai meno nell'ordine dell'1.138-1.139 per l'allievo di Alessandro Cocciadoro che completa così un doppio nel pomeriggio con il portacolori di Leonardo Cecchi che vince nettamente nei confronti di Ossigeno Biggi che era stato l'iniziale leader prima di cedere il comando proprio al vincitore al terzo posto si piazza Sugar Bread 735 l'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle